Andiamo ora a vedere il funzionamento stand alone di una sirena Defender L, andiamo quindi a svitare la vite per aprire la scocca, dove potremo vedere l'elettronica e dietro il tasto della codifica, che ci servirà quindi per codificare la nostra sirena con eventuali sensori o telecomandi. In questo caso prendiamo un sensore magnetico e un telecomando. Andiamo quindi a codificare il telecomando tenendo premuto il tasto code dietro la sirena fino al lampeggio del led. Ora andiamo ad abilitare il telecomando. Questo lampeggio ci indicherà l'avvenuto abbinamento e andiamo ad abbinare anche il sensore. Quindi sempre teniamo premuto il tasto code fino al lampeggio, attiviamo il nostro sensore e rilasciamo il tasto code. Ora abbiamo codificato il telecomando e il sensore. Con il tasto disarma potremo disarmare la nostra sirena e quindi in caso di abilitazione del sensore non si avrà un allarme ma nel momento in cui noi andremo ad armare la sirena quindi andando a premere il bicchetto chiuso del telecomando. Quando andremo ad abilitare un sensore registrato sulla sirena avremo l'allarme. E potremo cancellare l'allarme sempre tramite il tasto disarmo. Grazie a tutti.